Ok ragazzi, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo gameplay di The Sandman Allora ragazzi, quindi ancora prima di cominciare, lasciate che vi dica due robe Sono stato molto occupato in questo periodo per via dei recuperi di... di... di molte materie che sono stato rimandato Quindi allora ragazzi, scusatemi per questo periodo di assenza, però ho avuto un po' da fare E non fate come me ragazzi, andate in scuole facili voi, non andate in scuole difficili Fanculo l'istruzione, poi vi spompate la vita come me E in ogni caso, finita questa parentesi sulla scuola ragazzi e su quanto sia drammatica per me Andiamo avanti Devo usare i bigliettini il prossimo anno perché studiare inutile Allora quindi, è questo nuovo gioco ragazzi chiamato The Sandman Io quindi ragazzi ho deciso di portarlo, sempre gameplay molto simile a quello di Paranoiac Ma ha alcune differenze, infatti al contrario di Paranoiac Questo video dovrebbe essere più lungo perché ho notato, fateci all'ambulanza ragazzi No, c'è cani anti-droga, polizia in borghese, ambulanza, si sta passando di tutto diciamo E al contrario di Paranoiac, questo qui dovrebbe essere un gioco molto più pesante Perché molto più pesante in ogni senso che non so ancora bene di cosa tratta Però è proprio più pesante il fatto di, è più lungo ragazzi Molto più lungo perché ci ha messo più tempo a scaricarlo E tra l'altro temi anche molto importanti che è sempre bello portare Quali ad esempio il bullismo Lui ci spente ragazzi, cominciamo Occhi che battono Spero di aver settato bene il volume Dice la horror style, è un gioco horror di esplorazione Mentre nulla di troppo estreno Ma ok, Bokenet, alcune immagini shock Ah ragazzi voi lo sapete, è vero, perché su Paranoiac Veniva fuori che, no anzi no, ve lo dico dopo Un attimo che sto ancora finito di settare qui ragazzi Mi dispiace ma ok Ok, giusto, giusto, siamo giusti ragazzi Quindi ci dice meglio di usare i materiali L'autore non si prende le responsabilità In Paranoiac lui diceva che Usava linguaggia forte Perché c'era il ragazzo che ci provava con noi Altrimenti non c'era linguaggia forte Sta tranquillo caro Non dire un'altra parola Non c'è niente per cui dovessi preoccupare E' soltanto un mostro Ah 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 Montaremini che non conosco Che sta ruggendo Che sta ruggendo qui vicino Mi ha avvicinato Eh 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 Sta solo scherzando Beh Non sta ancora dormendo, giusto? Beh Allora ti racconterò una storia spaventosa Una storia horror La terrificante storia dell'uomo di sabbia Riconosco alcuni stessi mobili di Paranoiac ragazzi Io direi che ci si bisogna alzare No, no Niente Fate ciao anche ai cani ragazzi Ok E' mattina E' mattina Bene Ok Sofia O' già mattina Madonna via Io mi do alzare le 6 volte Per dovevo andare a scuola Dalla scuola Anche d'estate Non sapete Io non dico è già mattina Io dico robe peggiori Siamo una ragazzina Cappelli rossi Ok Il cestino contiene alcuni piccoli pezzi di spazzatura Eh Spazzatura Ok Una libreria Se è come Paranoiac dovrò spippolare in giro prendendo tutto Il nostro vestito Qua vedo un vestito che bisogna prendere Eee Lo sapevo Fiero proprio Ah siamo vestiti a scolaretta Ok Un peluche Il tuo favorito sacchiotto Mi metto bene le cuffie ragazzi La metto sempre le impressioni che stiano cadendo Appena è stato lavato Appena è stato lavato E' così carino e morbidoso Ma che ragazza carina Che siamo Che piacciono i peluche Niente E qui non ho controllato Ok Nulla di che Una foto della nostra pop star preferita Niente Ah Possiamo tornare a letto Questa roba qui non Guardate che Che tipo Torniamo a letta Ok Non si poteva fare questa roba qui Nel precedente Paranoiac Ok quindi Questo gameplay qua ragazzi Ho deciso di portarlo Che se magari vi interessa Vi resta non so Ok Se vi piace lo continuo Altrimenti No Perché Basta che ci sia una sola persona Che scrive nei commenti Se continuano Io lo continuo per te Un appunto Caro Sofia Papà Sarà via per lavoro Sarà via al lavoro Per un po' Ti ho lasciato i soldi Per Ah Per badare a te stessa Per ora Ehm Chiudi la porta E non lasciare Che nessuno entri Questo Oh non so che senso Inoltre La sorella Mary Ah Ok Siamo in una scuola religiosa Sorella Mary Dalla scuola Ha chiamato Per 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 vederla Hai appena fatto qualcosa di cattivo Sono un po' Sono troppo occupato per andarse Quindi digli Quindi digli Per me Digli che sono troppo occupato per andare Così Digli che faremo un'altra volta Che è successo Se la rileggiamo Aggiungi qualcosa No Ok Cupboard La tv Ok Sì esatto Non è come paranoia Cioè noi dobbiamo andare in giro Finchè non succeda qualcosa Cioè è proprio come paranoia Si va in giro Finchè non succede qualcosa Le scarpe Ok vabbè Scarpe Altre scarpe Ah ok Scarpe di papà Cazza appena succede Cosa Ah siamo già andati a scuola Ok E infatti il tema De bullismo ragazzi Noi dove siamo Eccoci qua Regan Ok siamo usciti di casa Subito Io volevo andare a destra Ma siamo subito andati a scuola Tutto in automatico Ehi Sofì Maledetto cane Dopo che torna su Madonna cara Ehi Sofì Hai Hai Portato The paint Paint è Ritratto Painter Quindi sai Tipo il pennello Immagino Hai Sei portato il pennello a casa Perché ragazzi Death hair Quei capelli Ah ok Ci stiamo prendendo in giro Che ci dicono Ci sei portato il pennello a casa Perché questi capelli rossi Come hai fatto T'ho fatto dei cosi rossi Senza un pennello Bellissimo Quindi Seguitrice numero uno Dai ora basta Regan Forse lei Vive vicino A un venditore di hot dog E ha scambiato il ketchup Per lo stampo Per lo shampoo Vabbè ragazzi Io Immaginavo cose un po' più pesanti Ma in realtà Non è nulla di che Dite poi la punizione Per il cane Dopo che torna di sopra Se va avanti ad abbagliare Eh Sì deve essere così Ok E ridacchiano Sorella Signorina Gundler Sei qui È una suora Sì Mi sembra uscita fuori Da Dark Souls Con quel vestito Eh voglio parlare Vieni nella mia stanza Adesso Ok Puoi aspettarmi anche Sofì Ah Sgambetto Ci hanno fatto lo sgambetto Ci hanno fatto Che hanno fatto È una scuola femminile Solo per ragazze Regan Cosa stai facendo Cluz Muoviti Sei così lenta Sei così seriamente lenta Per me Noi non abbiamo La madre Ho già capito Il papà Che lascia le lettere È un po' strano Quindi Perché Perché l'altra Ci ha seguita Ehin Sofì Riguarda Regan Qua per salvare Da primer esce Ma lo faccio Dopo che il dialogo finisce Riguarda Regan Prova Cioè Sopportala Ma Sì Stanno solo scherzando Starò bene Ok Classica amicona Non so Anche io mi chiedo Perché Regan Ti rompe le palle Così tanto Vabbè Classica cipolletta Ti rompono Deve essere Ah ok Si si vede Che per lei È stata Molto dura Da qualche paura Cioè Deve aver subito Qualche trama Qualcosa di duro E io sono l'unica Fonte Con cui lei Può sfogare Il suo stress Hein Beh Andiamo Andiamo a dare a vedere Sorella Mary Siediti pure Sì sorella Mary Per ora il gioco Si sta auto giocando Signorina Gundler Hai mostrato veramente Dei grandi miglioramenti Nel tuo ultimo esame Sono veramente Presa Dalla tua Abilità Dalla tua bravura Tu sei sempre stata Un modello Una studentessa calma Un vero modello Spero che tu Continui così Anche se Devo dirti Il principio Per cui ti ho chiamato qui Thank you very much No Avevo proprio sbagliato A leggere io ragazzi Eh In ogni caso Signore Gundler Hai risolto Questa discussione What do we Ah Hai risolto Quella cosa Di cui abbiamo parlato prima Di cui abbiamo parlato Oh cielo Ti sei dimenticata Tu mi avevi detto Che eri preoccupata Arrivare Tu hai leggeri Attacchi di sonno Penso che sarà questo Oh sì sì È vero L'ho fatto Mi dispiace Ma Me lo sono dimenticato Non mi ricordo neanche Cosa ho mangiato prima No sì me lo ricordo Ma Prima quando Me l'hanno chiesto Un attimo Giù in negozio Cosa ho mangiato Prima Ok quindi Non va bene Solo non riesco a dormire Ah ok Doro in poca notte Quindi è sempre Che si attacchi di sonno Vado a letto E provo Per dozzine di volte A dormire Ma Mi ritrovo Se Cioè sto sveglia Fino alla mattina Diciamo Per quanto tempo Per quanto tempo Sei rimasta Senza dormire Per Diciamo circa Dieci giorni Mi dispiace Ma non posso proprio Contando anche La scorsa notte Direi circa dieci giorni Ma non riesco a ricordare Il numero esatto Oh cielo Ma sei andato all'ospedale No Mio papà è occupato Quindi io non voglio preoccuparlo E inoltre costerebbe dei soldi Ok capisco Sto odiando il mio cane ragazzi Ok parlerò da sola Parlerò io con tuo padre Ma sembra che Non abbia voglia Di incontrarmi Diciamo Quindi quella lettera Che ci ha lasciato Questa suora qua Per il nostro padre Non è perché ci siamo messi nei guai Perché noi siamo La santarella del turno Siamo Sì Perciò quindi Ma è proprio perché Anche la suora è preoccupata Per noi Ma non importa Penso che tra poco Riuscirò a dormire Non per favore Non preoccuparti Ora Scusami ma è tempo Per Ma è tempo Per me di andare Ah la sorella Che religiosi Insomma Stai pregando Cioè Di solito tu preghi Per cosa? Pregare il signore Perché ti faccia dormire To the lord Lord way No Dico cazzata Ok Ah Ma prega il signore Prima di dormire Gli insegnanti Gli insegnanti Non sono mai mancati un giorno Ah Gli insegnanti lo fanno sempre Perché sono sorelle Sono a suore È ovvio che lo fanno Forse dovresti trovare Trovare sai Potrebbe calvarti E permetterti di dormire Buona idea Ok Scusami Scusami Mi congetto Devo andare Finché non succede qualcosa D'importante Io non Ah infatti Una Infatti Scuola religiosa Ah preghiera Perché lui Ha dato la luce A questa miseria E la vita Ha 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 dato la vita Ai nostri anime Per questo Per questo Ravmorti Non arriverà Sì le sue lezioni Salviamo un po' tutti Riguardo alla cristianità Chi Ricerca la luce Chi cerca la luce Più di tesori Nascosti Chi è riempito Di gratitudine E di conoscenza Quando loro raggiungono La tomba Mi sta annoiando Perché la vita È stata data Da un uomo Il quale È nascosto Il quale Dio L'ha generato Perché è difficile Tradurre ragazzi Sì sì Ah ha What are you Perché la paura È venuta verso di me Perché Quello Lo temuto Viene verso di me Non ho pace Non ho quietitudine Non ho riposo Ma soltanto tormento Preghiere Il lavoro Il lavoro Era un uomo annesto E adorava la giustizia Job è il lavoro Ah job A meno che non c'è un tipo Che si chiama job È un funerale Sto qua Ma non vedo bare Job Era un uomo annesto E adorava La giustizia E non intende job Come lavoro Che job è il lavoro Ma Come tutti noi sappiamo Questo non è sicuro Questo disastro Non sarà Basta Attraverso la calamità Lui ci Attraverso Il disastro Ci mostra la via Il cammino Il cammino Che Non tutti Quindi qua Finisco il mio sermone Sono ebrei Ora Preghiamo Ah perché era un sermone Non è la vera Preghiera Qui ci addormentiamo Suono Spaventoso Di campanelle Spazio Ok Siamo tornati a casa E Spero di aver ottenuto Il volume Della Registrazione Troppo alto Ok Dovrei farmi una doccia E andare a letto Questo gameplay qui Verrà fuori lungo Ragazzi Ma veramente Non Finché non mostra qualcosa Di preferire essere qua E siamo tornati qui Io ragazzi Mi sto drogando Di gameplay Lei di Rule of Rose Ragazzi Veramente Proprio No vabbè Niente Ok La doccia Cerchiamo il bagno Ecco qua Ok Eccoci qui Oh qua Comincia qualcosa Le cose negli horror Cominciano quasi sempre in bagno Questa ragazza Mi ricorda La testa di Rule of Rose Perché è presa in giro Debole Con Senza un genitore Mi ricordo Verrà la mettere Ah signore Sono veramente Orribile Eh Le occhiaie Non dorme da tanto Le occhiaie sotto i miei occhi Il lavoro Perché non ho dormito Per dieci giorni Di sicuro Perché non riesco a dormire Anche io ho problemi a dormire ogni tanto di notte Io Vorrei solo Andare a letto E riuscire a dormire Ok abbiamo finito Sono così stanca Andrò a letto Bruta cosa Un mio compagno di classe Dice di avercela E Si si vede Che è un po' stanco Compagno di classe Compagno di scuola Perché non è mia classe Una preghiera Prima di andare a letto La mamma lo diceva sempre Ora io mi metto a dormire Il signore Il signore Prego il signore Per farmi da custode E se E se io Dovessi morire Prima di Svegliarmi Madonna Stai deprimendo Il tuo signore Il signore Io prego il signore Di prendere la mia anima Stupido Se questo mi riuscisse A far dormire Non ci sarà Be' nessun problema Beh giusto Come in paranoia Ragazzi Ci sarà sempre L'orologio Che rompe Oh Ora qui Da quello che ho capito The Sandman Proprio dal titolo E già Per me È tutto Abbientato tipo The Nightmare Diciamo Tipo in un incubo Mentre dormiamo Ah Qualcosa di strano Cos'è a mezzanotte Cos'è successo All'orologio L'orologio Si è fermato A mezzanotte Strano Avevo appena cambiato Avevo appena cambiato La batteria Che ci sia guastato Cosa Eh che questo qui È bloccato A mezzanotte Per cosa riguarderà Cioè La cosa di cosa Ok Io torno a letto No Bisogna andare in giro Voi avete l'orologio Che si ferma Ancora meglio Perché dormite meglio E che succede Giustamente Andate in giro Per casa Che c'è per di qua Camera di nostro padre Ok Il computer È in modalità Sospesa Sospendi Un sacco di libri Che tu non capisci Nostra parte Un informatico Forse Ok Pantaroni Stesse Stessi I mobili Di Rulof Di S Di Rulof Sto dicendo Ragazzi Sono stufo Mi sono alzato Alle sette Oggi Alle sette Non le sei Stessi mobili Di Paranoiac Ok Niente Posso scommettere Ah posso salvare Ok Bello Salva Maledetti cani Ok sono uscito Cristina Davena Un cadavere Ah siamo in un condominio Noi Oh ragazzi Anche i cani In strada I cani in giardino Ok Eh Quanto siamo Per quanto riguarda La registrazione Ragazzi Dove me lo dici Te per La registrazione 20 minuti Vabbè Altri 5 ci stanno Dai Eh Il vicino Il vecchiaccio Dell'appartamento Qua vicino Cosa è accaduto qua Sta dormendo Perché Te l'ha svenuto Casomai Perché dovrebbe dormire Fuori nel corridoio A notte fonda Aspetta Ah forse Eh infatti Forse ha battuto la testa Oh no Devo chiamare un'ambulanza Ah ok Si porta dietro il telefonino Sofì Perché non risponde nessuno L'ho chiamata il 911 Se cosa Se non rispondono loro Io che cosa dovrei fare Oh Devo andare a dire La vicina Dall'altra parte Cristo Dio Ok quindi per di qua Direi Mi scusi Eh La Sono Grunde La ragazza Della porta a fianco Tuo marito È qui per terra Mi scusi Sei qui signora È qui signora Per me è successo qualcosa Ragazzi Eh Non è locata Eh Sochiusa diciamo Ecco Polizia Ambulanza Prima c'erano cani Antidroga Poliziotti In borghese Poliziotti In giro Ambulanza Che passa Cani impazziti Signorina Si alzi Per favore Cos'è successo È stato Mena Che lei Ma che Che è successo Deve essere successo Qualcosa di strano Di sicuro Usualmente Non succede mai niente Di notte Perché questa notte C'è abbastanza rumore Di notte Perché questa notte È così Calma Sta dormendo Non è morta Vecchia signora Qual è successo E qua non si può andare Ok Non so Non dovrei andare qui A curiosare Nelle stanze degli altri Sembra il bagno Non dovrei andare qui Dentro Usciamo E ci troviamo Un mostro Che ci insegue Come su Prova a svegliarlo Sta russando Molto forte Signore Stai bene Tu stai soltanto Dormendo Ma Ok Tanto gli dico Che dobbiamo vestirci Che è successo qua Un'altra persona Che sta dormendo Nel pavimento Perché Siamo tutti quanti Dormendo in questo modo Che cosa diavolo Sta succedendo C'è C'è qualcun altro Che sveglio Caffè Caffè È bloccato Ah Anche in città Si può andare qui C'è una mappa Della città Hai trovato Una mappa Della città Ok Salvo di nuovo Ragazzi 23 minuti di gioco Il mio qua mi dice 23 minuti di gioco Qua la legislazione Mi dice 23 Ragazzi Preciso Come un orologio Svizzero Madonna cara Ok Ospedale Sta riposando pacificamente Ok Quindi un attimo ragazzi Che Voglio andare a controllare Che c'è la sinistra Prima di andare avanti Hotel Siamo in una città Abbastanza storica Diciamo Così Ok Molto inquietante Ragazzi Ancora non sta succedendo Un bel niente Una macchina Ah Una Macchina Della polizia Diciamo Ok Non ci interessa niente Del cestino Qui giù Non si può andare Che diavolo Sta succedendo Che diavolo Sta succedendo Madonna È enorme Questo posto Un attimo Che io dico Chiamiamo un'occhiata Al contrario di paranoia Che su paranoia Che loro che facevano Ci davano L'inventario Ma l'inventario Serviva solo E anche la vita Qui tutto quanto Ma l'inventario Serviva solo Per controllare Come si chiama Le chiavi Vedere quale chiavi avevi Se avevi delle chiavi Per il resto Ti ricevano anche Che avevi tipo Delle medicine Per l'antidepressione Diciamo Però non servivano a niente Era solo per bellezza Per farlo sembrare Più figo Item E qua abbiamo Il telefono Che sarà inutile Il diario Che sarà inutile Ecco Mappa della città Ok Dovrò imparare A orientarmi Lo farò un po' Off camera Diciamo Sta riposando Pacificamente Sto cominciando A negliarmi Un cartello Ok Un appartamento Possiamo entrare È bloccata Ok Sono tutte bloccate Un pozzo Come quello di paranoia Un pozzo Una casa Molto strana Sapevo io Che puzzava Contenitori Plastica Fucili Sembrano abbastanza Pericolosi Lasciarli qua Senza Nessuno Che custodisca Un coso Lavarsi le mani Una scala Vai sulla scala Tavolo Una fontana Un altro cestino Che non ho voglia di controllare Conoscendo quelli Di paranoia Che loro ragazzi Sono anche in grado Non è ancora finito Sono anche in grado Di metterci tipo Oggetti nei cestini Della città Ristorante Un attimo Un menù Per il ristorante Lasagne Io odio le lasagne Cosa fa mia nonna? Lasagne Quando si mangia giù E quando fa le lasagne Indominate Che fa Pasticcio Che è la stessa roba Ok Quindi lasagne Sembra buono Ma non importa Sta riposando bene Ok ragazzi Per me bisogna tornare Su in casa E poi dopo stop Qui Carico la prima parte Mentre Registo la seconda Immagino Sono quasi le 23 Ok Eccoci tornati a casa Ah ok No Si dice proprio Resta qua fuori E controllare Che ci siano persone sveglie Nell'ospedale Forse Cioè ci sono sempre I servienti svegli Ah non vorrei Non avrei mai voluto Essere all'ospedale Di notte Che cazzo Ah Qualcuno Anybody Hello Qualcuno Cazzo appena è successo Ah ok Ci siamo Ci siamo Teletrasportati Nella piazza Ah questo qui È strano Ancora più strano Tutte le persone Che ho visto Stanno dormendo Per strada Cosa diavolo Sta succedendo Scappa Sofì Chi è lui Ah il tipo Il classico Tipo degli anime Che poi Motevano Individualizzarli bene Per meglio I personaggi Perché In paranoia Che ragazzi Ci avevamo Noi con i capelli bianchi Che ci si riconosceva subito Scritti Cioè ci avevamo Il vicino Simpatico Perché ci provava sempre Simpatico In calore era Ma ci provava sempre Zia quando vedevi Che era Super Carina Cioè Qui invece Siamo una ragazza Dei capelli rossi Che si vede sempre E qua è un tipo Dei capelli morroni Che si vede sempre David David Perché sei qui Stavo Facendo Ah Penso che stessi facendo Tipo un turno Extra di lavoro Di notte E poi quando Ho lasciato casa Era sembrato tutto così strano Era pieno di persone Che Dormivano lì Sul posto in cui L'ho trovata Poi ho guardato intorno E ci ho trovato Stai bene Sofì? Non sei ferita o cosa? Nah Sto bene ma Ma non ho Che minima idea Di cosa sia successo Sì Nemmeno io Perché qualcuno Dovrebbe Perché cosa diavolo Sta succedendo Me lo chiede anche io Penso che noi siamo Gli unici svegli Chi lo può dire? Forse c'è qualcun altro Sveglio qui da qualche parte Andrò Andrò a dare un'occhiata Vuoi venire con me? Di sicuro Oh Aspetta un attimo Che c'è? La mia amica La mia amica Anne Lei vive nel dormitorio A scuola Ah Porretta Anche lei Senza genitori Vuoi andare a vederla Se Anne sveglia Sono sicuro Che lei Si è spaventata Lei è anche Pariché timida Vuoi andare a cercarla Classica Tipa buona Ragazzi Beh l'amicizia è importante Dopotutto Verrò con te Non devi Tu non puoi Davide È una scuola Per sole ragazze E qui ragazzi Proprio Tirati Ceffonia Due per due Finché non diventano Dispari Termine che usa molto I criti Ma che gli ho dato io Perché Pensateci sopra E farà molto ridere Ah è vero Una scuola cattolica Grazie a te Non sei glicana Altrimenti Madonna Cara Dov'è il papa Invincibile armada Parte 2 Subito in Inghilterra A distruggere tutto 120 galeoni Eh Sì I ragazzi Non sono Ammessi Ammessi Certo No Prenda Seriamente Non mi sembra Il proprio momento Per Non mi sembra Il proprio momento Giusto per queste robe qui Dove essere Pericoloso Lasciami venire con te Starò bene Posso farla da sola E qui proprio Ti odio Vado lì ogni giorno Non Stai tranquilla Non mi perdo Ok va bene Se tu insisti Casomai spetta fuori No Va bene Quindi tu farei da sola Vedo Darò un'occhiata Qui da qualche parte Per vedere se Incontro qualcuno Tu Troviamo Torna al parco Una volta che trovi la tua amica Ok Va bene Ho capito Sofì Ci ha richiamato Non fare Niente di pericoloso Se dovesse succedere qualcosa Anche lui ci prova ragazzi Stesso 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 concept ragazzi Ok Io salvo qui ragazzi Allora Ditemi Ditemi se la storia Vi sta interessando Magari Scriveteci Scriveteci dei commenti Sconsigli su come Magari Sono troppo allegro Deve essere un po' più Cupo Tipo per fare la sua spera Quel che volete In ogni caso ragazzi E i Chris Volevamo fare un vlog Dove rispondevamo Alle vostre domande Quindi Domandateci ogni cosa ragazzi Che vi risponderemo In un vlog E Diteci anche se volete Che vi salutiamo nel video E Ciao a tutti Ci vediamo al prossimo video